Quasi 8 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il Comune di Pietrasanta su interventi mirati alla tutela dell'ambiente e alla rigenerazione urbana. Dalla linea di finanziamento del Ministero delle Transizioni Ecologica, l'amministrazione comunale di Pietrasanta si è giudicata 2.915.000 euro, il fondo più consistente mai assegnato alle regioni per la bonifica di siti inquinati. Le risorse saranno destinate tutte al territorio di Val di Castello e ripartite fra bonifiche delle vasche di flottazione, 415.000 euro, e dell'intera area mineraria Ex-Edem, interventi finanziati e spalmati su più annualità da chiudere entro dicembre 2025. Dalla linea di finanziamento del Ministero dell'Interno, invece, Pietrasanta si è giudicata 4.790.000 euro sul progetto di ristrutturazione dell'Ex-Camp. Il progetto di restyling prevede un incubatore di creatività per accompagnare all'atto pratico l'avvio di start-up in diversi settori delle arte figurative e visive. Le residenze creative, uno spazio espositivo permanente per giovani artisti. Il Fab Lab della creatività, un'officina dove i giovani possano realizzare i prodotti e servizi di valenza sociale. Il co-working della creatività per consentire ai giovani di realizzare attività professionali collegate all'arte, alla cultura e al turismo.